Palla per Dodò, cross morbido, centro aria, attenzione Icardi, sole! Mauro Icardi, 1-0, finalmente una palla dentro, un errore, un errore difensivo e Maurito va a metterla in rete al minuto 40. Rivediamo l'azione, Kovacic, Dodò, liberato morbido, il colpo di testa di un difensore, Rauschenberg, di fatto regala l'assist a Mauro Icardi che da posizione... Inter 1, Stierna 0, forti inizia ragazzi, il gol di Mauro Icardi. Adesso loro dovranno uscire un po' dal guscio, un po' di più rispetto a prima, l'assist di Dodò, bravo gli dice, bravo! Palla per Ranocchia, avanza, filtrante, buono per Giovanni, attenzione, guarda, pronto al cross, palla al centro! Dodò, è gol, è gol, no! Salvataggio, l'arbitro dà il gol, è il raddoppio di Dodò, è gol, è gol, è gol, è gol, il raddoppio dei ragazzi! Rivediamolo da dietro, secondo minuto del raddoppio, il cross di Johnny per Dodò che di testa la va a mettere dentro... Nettamente dentro, nettamente dentro però si erano un po' fermati tutti i giocatori, avevano continuato a giocare ma è inequivocabile l'immagine televisiva... Un metro e mezzo abbondante, allora al minuto due c'è il raddoppio dei ragazzi con la marcatura da parte di Dodò... Mette la palla sul destro, la piazza a giro, la palla picchia sul palo, che palla, gol ragazzi! Che giocata di... Vedete che Partendribli incarica una palla destro a giro, morbida, palla che si stampa sulla traversa... Palla dentro, buona per Osvaldo, si allarga Kuzma, eccolo l'ha servito, Kuzma, attenzione, pronto ad andare al controcross... Arriva D'Ambrosio, il suo sinistro, è gol, è gol, è gol, è gol! Il terzo è arrivato, grazie ragazzi! Che vedete, guarda, dice, la dote, arriva D'Ambrosio, collo pieno, palla in rete, minuto 44, il gol dello 0-3 lo segna Danilo D'Ambrosio... E adesso Scalpini...